Il Consiglio Comunale di Portogruaro ha approvato un ordine del giorno che esprime solidarietà ai lavoratori della nuova Pansac. Impegna il Sindaco e la Giunta per la difesa dell'occupazione del territorio attraverso l'attivazione di tutti i canali possibili. Non giungono però buone notizie, sentiamo nel servizio il Sindaco Antonio Bertoncello. Antonio Bertoncello reduce dalla viaggio a Roma per la nuova Pansac. Ieri in diretta a Sera Moretto ci ha anticipato che non c'erano belle notizie. Si parla addirittura di tagli di 400 posti tra Miria e Portogruaro, uno scandalo. Ma diciamo che la cosa è più complessa ancora, nel senso che l'azienda si era impegnata di presentare il piano di ristrutturazione entro il 4 di maggio al Ministero. Ieri lo ha presentato, ma lo ha presentato in maniera drammatico. Sostanzialmente oltre ai 450 posti, quindi la riduzione dei posti al 50%, è prevista anche la chiusura dello stabilimento di Portogruaro, che è a 110 persone, oltre a quello di Ravenna. Peraltro senza dare delle motivazioni credibili rispetto alle scelte che sono state fatte, senza avere informazioni sull'atteggiamento delle banche e dei fornitori, perché l'incontro con le banche è previsto domani, che è giovedì, e quindi le organizzazioni sindacali, gli amministratori, il Sindaco di Mira, l'assessore di Ravenna, due assessori provinciali, il Sindaco di Portogruaro, hanno preso le distanze su questo, non hanno accettato nella maniera più assoluta il piano finanziario, attendiamo nei prossimi giorni lo sviluppo. Nel frattempo, io adesso sto andando dai lavoratori della Milan Plaza, che sono in assemblea, chiederò oggi pomeriggio un intervento del Presidente della conferenza dei sindaci per organizzare una riunione con la presenza degli assessori provinciali, dando poi alla provincia il compito di coordinare questo momento critico. Io credo che Portogruaro non possa essere chiusa e non possa essere lasciato alla proprietà, voglio dire, la possibilità di fare quello che vuole dopo mesi e mesi di indifferenza e di malgoverno. E anche di vergogna, possiamo dirlo, Sindaco? Io credo proprio di sì, nel senso che ieri io ho assistito alla riunione assieme ai miei colleghi, ci siamo anche riuniti, veramente il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, ha presentato un piano che non tiene assolutamente conto del problema sociale dei lavoratori, tiene conto solamente i problemi dell'azienda, che è la massima responsabile della situazione che si è venuta a creare.